Per risolvere il problema degli oltre 100 bimbi rimasti fuori dalle graduatorie per frequentare gli asili nido comunali, il consigliere Massimiliano Pignoli annuncia una convenzione con le strutture private di Pescara. Nessuno resterà fuori, ha detto Pignoli. Sono circa 160 i bambini rimasti fuori, quindi un numero abbastanza considerevole, però paradossalmente ci sono anche delle scuole dove invece ci sono dei posti disponibili. Per cui già ho parlato con il sindaco di questa tematica che è sensibile ovviamente a queste situazioni, nelle prossime settimane troveremo i soldi necessari affinché ovviamente si attivi una collaborazione con gli asili nido privati in modo come va sempre il mio detto ormai che sa tutta Pescara che nessuno deve restare escluso e nessuno deve restare solo. Quindi in questo caso, questo detto, questa vale anche per i bambini e soprattutto per i bambini perché io da sempre, come voi sapete, mi occupo di sociale. Un modo per soddisfare le richieste di tante famiglie, non solo quelle residenti a Pescara ma in parte quelle residenti fuori comune. Questa è un'altra partita. Nell'ultimo regolamento che abbiamo approvato in Consiglio Comunale si dà giustamente un vantaggio a chi risiede nel comune di Pescara. Come d'altronde fa il comune di Montesilvano per i montesilvanesi e il comune di Spoltore per i spoltoresi parlando, come dire, già della grande Pescara. Ovviamente abbiamo dato un vantaggio, quindi un putteggio a chi è residente a Pescara e cercheremo nel contempo di aiutare, di aiutare dei miei incontri anche alle famiglie che risiedono fuori dal nostro comune ma che necessitano che i propri figli stiano all'interno del nostro comune per una situazione di comodità, vuoi per il lavoro, vuoi per la questione relativa ai nonni che vengono a prendere e fanno da secondo i genitori quando i genitori reali ovviamente lavorano. Quindi una serie di problematiche che noi cercheremo anche di risolvere. Grazie.